Siamo nell'Arno, a Capodarno, dove il nostro amico Mirko ha preso una trota, guarda che bella, una puzza, no, un'affario, un'affario molto bella, Angelo farà le foto subacquee, con un senso. Mirko ci vuoi raccontare con cosa lei ha fatto? Una lavina la tolta, vuoi che te la guatina? Sarebbe carino. L'antimo, io sono i bloccati, non ha un bloccato, bellissimo mosca, non ha un bloccato, l'antimo, trotta a Fario e rileve di terranea tipura arrasta ariana, arrasta, ariana, erradicata. non si sa mai che i qualcuno ti mandi in qualche campo mi chiamo in paolo ecco la si si guarda non si guarda Grazie a tutti. Grazie a tutti.